Molto meno nota di San Marco, la Basilica di San Pietro di Castello è stata in realtà per secoli il vero centro religioso di Venezia. Anzi, c'è voluta la caduta della Serenissima e l'arrivo di Napoleone perché la sede Vescovile si spostasse a San Marco da questo angolo di Castello. È stata sede Vescovile dal 770 fino al 1451, dove poi è stato trasformato in sede patriarcale, con il primo patriarca di Venezia, Lorenzo Stignani, il corpo è ancora sull'altare maggiore, poi fino a 1807 dove poi è stato spostato a San Marco. Quindi San Pietro ha più di mille anni di storia della nascita a Venezia, mentre San Marco solo due secoli. Miracolosamente ancora fuori dai grossi flussi turistici e abitata da una vivace comunità, San Piero rinnova da decenni una delle feste ancora autenticamente veneziane. Cinque giorni intensi, cinque giorni fatti dai veneziani per i veneziani, una festa che da 54 anni siamo riusciti a portare a tra le forze la festa diciamo popolare più famosa a Venezia. Di tutto di più, da spettacolo per i burattini a mostre archeologiche, fino a Battista Cocco, Nostrani, a San Piero del Castello, la musica a chilometri zero, quello sì, sicuramente sì. E poi, al di là del divertimento, qui si è fatta davvero la storia, la storia di Venezia. Dietro alla Basilica, una trentina di anni fa, sono stati anche recuperati dei reperti archeologici molto importanti che lo scorso anno, nella scorsa edizione, nel 2023, abbiamo riproposto la cittadinanza.